Buonasera e benvenuti all'edizione serale del PG di Televoto, dove parleremo delle notizie del giorno. Iniziamo però con un'ultima ora. Continuano le misteriose sparizioni nei boschi di Pontecafa. Questa volta le vittime sono sei reganti che si trovavano a festeggiare in una valla. I loro corpi non sono ancora stati trovati. Questo è l'ultimo video trovato su uno dei loro cellulari. Vi ho filmato. Ma che bel paesaggio che c'è qua! Ci starebbe una storia di Instagram con questo tramonto. Vai Desmè, non metterla via! Che vale questi video, dai! Vai Nisa, metti il video! Vai Desmè! Oh, non voglio! Dai io che non stiamo parlando di discorso serio! Eh, parlate voi! Non disturba nessuno! Ti senti guardate che è la storia che gira al caffè. L'altro adesso era la buona città via un pirlo. E' arrivato il tipo Augusto. Mi dice che c'è in giro la storia che è al ponte. All'una la notte vedono un'ombra bianca. E' sempre tu! Figa, è vero! Al ponte! Edith, non lì la ruota edith! Saranno i pokemon! Giuro! Giuro! Figa! Erano lì che dicevano che l'una la notte, tutte le notti, vedono questa ombra bianca che passa su, attraversa il ponte, va su per il fiume e non sanno cos'è. Ha detto qualche modo anche i carabinieri, eh? Ma va là! Io sono passato ieri sera, non ho visto niente! Figa! Ma mi ha la cosa a pescare la notte, ma ho mai visto niente! Ma dove? Al lago? E' perfetto! Io ti ho detto, io non... Ho detto, secondo me può essere anche vero, perché c'è... Mi sembra una stupidata che si inventa, però... Ma va là! Eh, ma va là! Devo finire la birra! Eh dai, vai a prenderle giù al posto! Eh dai, il paramezzo! Sì dai! Ma te hai pescato qualcosa in studio? Casso! Strano! Ok, sei strato! E' anche una trota in pescato! E' da mangiare gli stessi! Viti giù un attimo! Cosa c'è? Adesso! Vedete qualcuno per un l'aiuto? Oddio! Chi è pochino? Chi è? Oddio! Sindaco! Sindaco che è? Signor Sindaco! Che succede? Cosa è pochino? Dobbiamo scappare! Cosa c'è? Cosa c'è? Cosa c'è? Cosa c'è? Cosa c'è? C'è un'ombra bianca che mi segue! Ma dove può cocere nessuno? Ma dove ne ha vede nessuno? È impossibile! Allora dai, aspetta che ti apri la casa! Aspetta che si apre! e gli animi non si apre! Bacca dove è ad aiutarsi!